Buone notizie per la Puglia sul fronte dell'occupazione. La regione conta infatti circa 85.700 lavoratori in più, un dato che si riferisce al secondo trimestre del 2016 rispetto ai primi tre mesi dello stesso anno. Lo ha reso noto l'Istat attraverso il consueto report trimestrale e la banca dati online. Numeri positivi commentati con soddisfazione dall'assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone a margine della presentazione del rapporto MET 2016, uno degli eventi di punta della Fiera del Levante di Bari, ospitato nel padiglione dedicato all'internazionalizzazione. Mai in passato, ha sottolineato l'assessore, si è registrato un aumento così importante dopo la crisi. La crescita congiunturale della Puglia è straordinaria, così come è straordinaria la crescita di tutto il mezzogiorno, dove gli occupati sono 230.865 in più, il dato più alto di tutte le altre ripartizioni italiane. La Puglia, ha dichiarato la Capone, incide sulla crescita degli occupati del sud Italia per più del 37%. Si è avuto il sentore del fermento economico nella regione, sia attraverso i risultati della vecchia programmazione, sia con il flusso di domande per i nuovi incentivi. Ma questo, tra tutti, è l'indicatore che paga il grande lavoro svolto negli ultimi anni, tanto nei settori tradizionali, ad esempio legno e arredo, quanto in quelli innovativi come aerospazio e meccatronica. L'occupazione, ha concluso l'assessore, resta una priorità. I dati diffusi dall'Istat sono di grande conforto perché mostrano una crescita sia nel corso dell'anno che rispetto al 2015. Tuttavia, questi numeri non devono essere un punto d'arrivo, ma di partenza. L'impegno è quello di potenziare questi risultati attraverso l'innovazione, l'internazionalizzazione e la formazione. E la Puglia è già al lavoro per questo.